Un pomeriggio di emozioni, ricordi, musica, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro. La cooperativa sociale Semi di Pace ha festeggiato a Villa Fernandez, a Portici, i suoi vent'anni di comunità, raccontati attraverso le parole e i volti dei suoi operatori e utenti. In serata poi è anche il concerto di Tommaso I in acustico, anticipato dalle esibizioni dei gruppi musicali Villa Voices e Jets Do It. All'evento, a cui hanno partecipato tantissimi cittadini, sono intervenuti Luisa Annibale, presidente Semi di Pace, e Antonio Capice, presidente di Villa Fernandez. Semi di Pace è una cooperativa sociale di servizi alla persona, è sul territorio porticese del Vesuviano, come appunto dicevamo, da circa 20 anni. Com'è cambiato il lavoro sociale? La svolta è stata appunto quella di ridare dignità alle persone, non attivare un processo di assistenzialismo, ma partire dalle risorse delle famiglie, dalle risorse dei ragazzi, per inserirli all'interno della società e all'interno del mondo del lavoro. Possibile fare cooperazione sociale, quindi fare impresa e generare sui territori socialità, costruire legami. E Semi di Pace appunto rappresenta questo, una cooperativa che da più di 20 anni opera in questo territorio, promuove diversi progetti, soprattutto progetti di rete. E proprio Villa Fernandez è uno dei suoi ultimi progetti, che ha reso possibile recuperare un bene, un bene confiscato alla Camorra, che è stato per più di 20 anni chiuso, e restituirlo alla città. Semi di Pace opera dal 2002 nell'Ara Vesuviana e nella zona orientale di Napoli, promuovendo i valori della solidarietà e della sussidiarietà per l'avvio di processi di autonomia, attraverso interventi di prevenzione del disagio sociale, servizi socioseducativi e sociosanitari per minori, anziani, persone con disabilità o in povertà, servizi per l'infanzia, progetti di accoglienza e inserimento sociolavorativo di persone svantaggiate. Don Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli e socio fondatore di Seme di Pace, il cantautore Tommaso Primo. Si arriva, per grazia di Dio, attraverso degli ideali condivisi dalla fine, dalla metà degli anni 90, quando il gruppo di ragazzi che presi dalla scuola superiore mi seguirono in un'avventura, che era quello di assistere ragazzi di strada, ragazzi dei bipiani, di ponticelli, e poi soprattutto nell'esperienza in Albania, la caduta del muro di Berlino di qualche anno prima e le speranze che ha aperto, ci dava anche un nuovo entusiasmo appunto sul tema della pace che oggi viene così messo ancora in discussione. La musica ha il potere di avvicinare le persone al sociale e alla politica che non è soltanto quello che fanno i politici, ma è l'opera di tante persone che si mettono in gioco e cercano di creare delle cose. Ho conosciuto i ragazzi di Seme di Pace anni fa e mi ha colpito molto la loro capacità di provare a togliere il buio dal cuore di certi bambini. Quindi davanti a uno scopo così grande non si può dire no.